buonasera buon pomeriggio ciao ragazzi come state? tutto bene? un attimo che controllo al volo due cosine buonasera grazie 20 federico 01 madonna però sto coso lo butta aspettate un secondo che si può vedere col pelo dei fuori che professionalità è col pelo dei fuori prendi prendi questo microfono che figo ma dovrebbe star così non col pelo dei fuori vabbè pazienza ciao ragazzi ciao ragazzi grazie andreasio grazie andreasio ringraziamo al volo coloro che hanno osato iscriversi mentre il canale era offline che cioè è da venerdì sabato domenica lunedì almeno quindi tre giorni ci abbiamo horror rolex 00 per una prossima volta consiglio di vedere l'ultimo video di melody sheep simile a kurzgesagt ma con più budget the human future the human future melody sheep what is that? c'è un trailer interessante interessante non so cosa sia ok lo metto in grazie perché tre giorni fa mi hai consigliato questa cosa e grazie della sab ovviamente e e poi e poi ringraziamo amcisco dieci mesi ringraziamo anche mike lecono grazie aiubi 96 21 mesi grazie 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 io però sta cosa non la posso vedere cioè non la posso vedere non 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 ok ragazzi allora oggi si fa un po' di contenuto un po' più deep dive questo è un deep dive i deep dive sul mio canale ne sto facendo un po' pochi rispetto a quelli che vorrei vorrei farne di più cos'è il deep dive io come sapete sto sto cercando di scrivere un un corso in personal finance e un in realtà sta venendo fuori nella mia mente sta venendo fuori una roba mastodontica ho fatto da poco il project planning e già non c'ho tempo già non c'ho tempo cioè non sto già in ritardo grazie Filippo Hart e nella mia esplorazione ho tantissime risorse che sto leggendo tra cui libri tra cui blog tra cui esse qualche paper non molti e sto raccogliendo informazioni un tipo di format che mi piaceva fare è il learning in public quello in cui io prendo qualcosa di nuovo lo leggo lo studio in in live lo commento con chi c'è estraggo note però faccio difficoltà a far funzionare quel formato in quanto in quanto vado a una velocità troppo lenta se non faccio molto learning e comunque ho visto che non interessa non granché interessano a poche persone gente di qualità ma hanno un po meno interesse diciamo quindi che probabilmente non vedo ne farò ancora ne farò ancora ma li dosiamo il secondo layer il secondo livello di apprendimento di condivisione di questo processo di creativo è il deep dive quello in in cui delle risorse che ho già letto studiato non è esattamente questo il caso nel senso che in questa volta qui le ho lette le risorse che sto per condividervi ma le ho lette ormai più di un anno fa quindi è un po' un relearning in public io che rileggo e riscopro questi articoli interessanti su tematiche che a me interessano ovviamente e in questo caso parliamo di finanza personale tra investimenti in realtà è una roba ancora più deep perché andiamo a vedere un paio di concetti che sono il dollar cost average e il leverage con con delle premesse su questi articoli che mi hanno colpito nel senso che sono un po' contrarian del tipo ehi questo è un falso mito adesso lo smontiamo oh mi sono fatto malissimo ban ban perché ho del sa perché ho del sa perché sto sanguinando perché sto perché sto sanguinando sembro tommy a un twitch tank qualsiasi vabbè sto sanguinando così è halloween uno sgaro uno sgaro prima di partire però finivo il pippottone poi partiamo in realtà facciamo un altro po' di intro sul resto della giornata della settimana grande Fasanok dicevo le learning in public le sto un po' saltando primo perché sto facendo un po' meno learning e il secondo perché diventano nella difficile renderle interessanti per il pubblico e quindi se le faccio le faccio il lunedì pomeriggio il martedì dovrebbe essere un po' più deep dive o contenuti un po' più tematici sul sul personal finance e così via e poi se ho voglia se ho tempo in realtà dal project planning che ho fatto non ho tempo per fare niente se ho tempo mi piacerebbe fare qualche diciamo lezione quelle in cui cerco di raccogliere quello che ho studiato impacchettarle in una lezione live e provare a spiegare un po' come Feynman technique lo faccio per me per imparare di più e se qualcuno vuole imparare qualcosa fermo restando che sono temi che sto studiando per cui non sono autorità in materia quindi l'importante è capire che che mariano io non conto un cazzo non conto un cazzo però sto sanguinando tantissimo vabbè lo fanno lo fanno detto questo grazie fa sanoc grazie alla informazione che fai grazie mille prima di entrare nel tema concediamoci 5 minuti di cazzeggio dai allora intanto ricordo che stasera stasera verso le nove e mezza forse forse 10 dipende da quando riesco a quando finisce il tour del dolcetto e scherzetto qui a zurigo che porto mia figlia più grande in giro a raccogliere dolcetti per halloween dopo appena riesco mi sgancio torno qui in ufficio e facciamo la live di fine mese che sarà un bagno di sangue ragazzi sarà un bagno di sangue ma lo fanno lo fanno lo fanno domani non c'è niente come di consueto giovedì abbiamo tablerone abbiamo un q&a after tablerone e in serata finalmente intervista pasquale stirparo che è un mio caro amico che abbiamo tante di quelle cose in comune che non ve le sto raccontare tutte quante abbiamo deciso che probabilmente non basterà una live quindi giovedì sera sarà una live sulla sua carriera e sul mondo della it security cyber security chiamatela come volete ma abbiamo tanti altri argomenti da toccare per cui probabilmente servirà una seconda live visto visto come quanto tempo ci mettiamo tra una la tra quando la scheduliamo e quando la facciamo ci ci sta che passerà un altro anno no non credo non credo il tempo è buono tempo è buono detto questo venerdì venerdì credo che riproporrò il formato lungo quello in cui sto in live quattro cinque ore e faccio un bel po di roba che è piaciuto mi sono divertito un po più leggera leggera per modo di dire faremo anche qualche reaction qualcosa di qualche contenuto che che è informativo entertaining e ci divertiamo detto questo grazie duca del sud grazie tantissimo vediamo qualche domanda che c'è qui già vedo già vedo già vedo domande off topic ragazzi corso dei laurea economia e marketing ma che ma io che cazzo ne so scusi vedo che mi è stato anticipato da federico bidone mister ci dice che a track mania qualcuno volevo parlarne venerdì questa di questa annosa questione annosa questione di 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 track mania vabbè al volo così e al volo così al volo così al volo così ho visto visto più di una persona c'è c'è questo mister scizzo che ha fatto un tempone io ho migliorato il mio record ma ho scaricato il go ho scaricato il replay wow sarà difficile da battere questo è italiano questa persona qui non mi sembra che sia italiana ma qualcuno mister scizzo se è tra di voi si manifesti dato chi non sapesse di che sto parlando è mr.rip slash tm track mania e niente è lunga da spiegare però sì qualcuno ha battuto il record due persone tra l'altro due persone dell'altro complimenti 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 da lui da barbonico che è spaventose ci sono stati mondiali di cosa di cosa di track mania allora ciao rip a senso investire una somma mensile ntf a come la sua contorrente non che domanda sì live track mania magari venerdì magari venerdì una mezz'oretta un'oretta facciamo track mania non oggi non oggi stranali di jumbo di rip grande federico ok bene allora passiamo alle cose serie quindi niente track mania anche perché quattro secondi e 14 mi ha dato questo mister scizzo se sei qui tra noi manifestati o manifestati quantomeno manifestati venerdì 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 live vostro voglio mister scizzo mister scizzo matteo an official ciao giorgio quale è stato l'esame più difficile durante il tuo percorso accademico bella domanda difficile cosa intendiamo da questa rispondiamo poi andiamo sul contenuto cosa intendiamo per difficile quello che ho dovuto studiare di più però magari qualcuno studiato tantissimo mi sono appassionato anche della materia però magari l'esame solo facile c'è alcuni difficile cosa si intende è una bella domanda però significa troppe cose io direi provo non so quello più impegnativo quello con con non lo so che mi ha fatto perdere più energie più tempo ai miei tempi c'era reti logiche probabilmente reti logiche è quello che devo menzionare reti logiche professor cioffi sarà morto era già vecchio 20 anni fa reti logiche era un esamone alla sapienza ingegneria informatica lato controllo e automazioni io vengo da informatica automazione ai computer vision per cui era reti logiche sicuramente però poi l'esame è stato divertente ho progettato un decoder e in realtà un bel esame ma con professore pessimo ma un bel esame e poi dovevi costruire spesso strutture complesse hardware software firmware era molto bello all'esame erano sei ore un progettone e il mio era tipo un decoder che aveva ogni linea era era invertita si e no per 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 criptare mel però non so fisica 2 era più difficile da un altro punto di vista fisica 2 uno dei pochi esami forse l'unico che ho rifiutato il voto e l'ho rifatto due volte per cui fisica 2 era più difficile credo però reti logiche era quello più tosto da passare con più materiale però bella domanda mi è piaciuta ok 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 stop i corsi di isidori i libri di isidori i libri di isidori sono di controllo i sidori come professore non ce l'ho mai avuto i libri di isidori quelli verdi me li ricordo quelli di controllo automatico lì era più l'esame di de luca dei roboti no l'esame di controllo automatico in realtà era con il professor de qualcosa di qualcosa non ricordo però i libri di isidori me li ricontrolla il pezzotto di mister rip si aveva fatto un decoder pezzotto progettata la circuitistica le rom tra l'altro fighissimo progettare le rom vabbè un'altra roba nel polimire di logica e 5 cfu dai no va bene dai basta così andiamo anche perché oggi devo scappare un po prima perché devo scappare un po prima abbiamo un'oretta un'oretta e un quarto vediamo che si può chiesto giumbo te lo fa il coaching di trackmania dai dai giumbo dove sei dove sei giumbo vieni vieni ti voglio venerdì a giocare a trackmania a trackmania o trackmania non lo so vabbè dai rispondo a qualche altra domanda però mi però mi però a che te hai iniziato ad investire e ti sei appassionato hai iniziato ad investire fin troppo presto e male seguendo un consulente finanziario di banca di roma non ricordo come si chiamava banca di roma poi diventata parte di unicredit in stock tech nel 2000 prima del crollo della dot com genio genio grazie consulente finanziario magari sei mori magari mori appassionato direi più dal 2000 dal 2012 forse 2013 però iniziato a investire poi seriamente nel 2016 dlato 97 ciao rip conosci il canale mi offro io sta prendendo un mini corso di equazione finanziaria sì sì l'ho anche visto qualche puntata se chiudo gli occhi mi sembra di vedere un 95enne poi apro gli occhi è un ventenne però interessate sta qua a Zurico tra l'altro potrei anche potrei anche in qualche modo contattarlo ci ho pensato è un bel canale mi offro io si chiama e penso che faceva altri contenuti ma è diventato è diventato sono anche sono anche lo sto anche seguendo il canale vediamo un po al volo vediamo un po al volo al volo al volo condividiamo qualcosa dove sta mi offro dove stai offro dai che hai pubblicato qualcosa ieri su subscription eh vediamo da sui feed sbagliati e come on mi ho ecco no oh mi offro io eccolo qui questo è il canale e sta facendo una mini serie su su soldi inflazione debiti mercati finanziari tasse sembra in gamba lui mi sembra che è vive a Zurigo quindi magari dopo darsi che lo contatterò è un bel canale credo che faceva altre cose tempo fa faceva altre cose cose completamente diverse di tutto costituzione steven hawking moto armonico boh vabbè tanta ha cambiato ma è sempre quindi a 90 anni se 7 anni fa era come adesso era sempre un bambino a 90 anni vabbè è un fisico è un fisico è un fisico ragazzo in gamba si sembra in gamba sembra che ho visto qualcosa era via quindi facevi rom i campi rom allora andiamo sul contenuto facciamo i seri dai facciamo i seri ho rinviato più volte questa live perché per esigenze di famiglia e altre cose e ora non so bene come uscire a fuori è un po' un relearning in public quindi rileggerò alcuni pezzi di questi articoli vi apro un mondo vi apro qualche porta vi indico la strada e poi è andato dove è andato anche il ragazzo nel senso che ci sono molti spunti non ho molte risposte alle domande che farò non ho molte risposte alle domande che mi farò e le risposte mi darà Federico qui in chat perché lui sicuramente ne sa più di me su questi argomenti comunque ho fatto un piccolo al volo al volo un piccolo doc con i link che mostrerò e lo trovate dall'indirizzo mr.rip slash i l l d c a l d c a che è che leverage e dollar cost average l d c a ok il in realtà non ricordo come ho sbattuto a questo a questo sito è un sito che si chiama double digit numerics d d num d d num.com è un sito morto perché vedo anche la nota di la nota di di copyright finisce al 2014 2014 le news and updates finiscono a 10 anni fa quindi già mi cringia tantissimo mi cringia tantissimo andare a toccare un sito o a leggere cose su un sito che essenzialmente è morto da dieci anni però che ci vogliamo fare non ricordo in che perché ci ho sbattuto ricordo a chi me li ha linkati la prima volta degli articoli interessanti e ho cominciato a leggere un po' tutta la parte di articoli articoli e ce ne sono diversi su volatilità su simulazioni e quelli il trittico che più mi ha affascinato è questo qua sui miti sugli etf in leva i miti e fallaci sul dollar cost averaging e poi il mix dei due che in realtà non mi è piaciuto molto questo terzo articolo poi i primi due mi sono piaciuti ma hanno aperto un po' come a me piace no? da scettico e da persona che ogni volta che ritiene di avere una certezza mi piace quando viene messa in discussione non c'è mai una gioia non c'è mai una gioia quindi così prima di partire facciamo un po' di un po' di side analysis il primo articolo di cui parliamo è The Long Term Behavior of Leverage ETF che però se vai a vedere come lo linka fuori sono i miti sugli etf in leva che sono per una versione più lunga e più interessante e più seria c'è un paper del 2010 ok? e scopriamo che l'autore dietro al sito double digit numeric è tale Tony Cooper ho anche perso un po' di tempo per cercarlo un po' online e dovrebbe essere questo signore qui perché sembra tutto match ok? signore scientist machine learning engineer a double digit numerics secondo LinkedIn lavora qui da 19 anni ma sto double digit numerics non mi sembra molto vivo il sito non mi sembra molto vivo altre cose che fa però lui dovrebbe essere vivo perché fino al 2016 cambiava lavoro quindi dovrebbe essere vivo stiamo facendo lo so è un po' una necrologia stiamo vedendo se questa persona esiste se è vivo però parliamo di un data scientist machine learning engineer con passione per il quant analysis e come dire quant analysis anche applicato alla finanza figo ovviamente anche ha lavorato nel mondo della finanza ok? è un vampiro è un vampiro è un vampiro allora non lo intendevi lui vabbè ok questo è la persona in questo Tony Cooper gli articoli che vediamo sono appunto long term behavioural leverage ETF meet and fall assist of dollar cost averaging non credo che riusciano a vedere quest'altro qua non credo che riusciano a vedere il terzo anche se è piuttosto corto e poi probabilmente citeremo anche un articolo del mio amico Nicola Protasoni di Italian Leather Sofa in cui si parla ancora di leva premessissima grazie Jim Conaty grazie non apprezzo grazie premessissima tocchiamo temi delicati non è un video tocchiamo temi delicati però a me piace camminare su queste frontiere per capirne un po' di più non so quanta applicabilità nella mia strategia potrà mai avere però questi articoli smontano qualche convinzione però ecco stiamo toccando concetti un po' avanzati e li sta facendo uno che non ne sa un granché per cui gioite gioite di me che vado in giro a a cercare di capirne qualcosa in un mondo che non è il mio mondo però il mondo dei numeri è un po' il mio mondo e quindi benvenga First Principle Thinking e benvengano anche cazzate e se qualcuno me le fa notare benvengano quindi prima cosa che ho fatto quando ho ricevuto questi questi link non ricordo dove non ricordo dove l'ho trovati è un po' studiare l'affidabilità capire chi c'è dietro chi ha scritto questa roba qua però abbiamo paper scientifici abbiamo uno scienziato dietro abbiamo qualcuno che insomma quantomeno ha il ha le carte per parlare poi non voglio commettere la classica fallacia del come si chiama? che fallacia è questa qui? quando si se tu non sei titolato non puoi parlare di X non è vero se gli argomenti sono validi si può parlare di X anche se tu sei un pizzaiolo adesso ho fatto anche i pizzaioli scusate autorità effetto alone non tanto non tanto il principio di autorità in realtà questa fallacia ha un nome più ha un nome più concreto è il Reduction at non è una Dominem ma vabbè comunque l'effetto halo quello lì ha senso quando una persona è esperta in un campo automaticamente la percepiamo esperta anche in un altro campo e quello non dove averlo su di me cioè io non sono esperto di questo campo però sto studiando e sto imparando cose cominciamo a partire cominciamo a partire partiamo ricordo che i link interessanti li trovate su questo doc però quantomeno questo che stiamo iniziando a a leggere ve l'ho messo qua in chat allora c'è un mito sui etf in leva è stato propagato recentemente sui media recentemente non so bene non so bene di quando parliamo eh questo dovrebbe essere più o meno attorno al 2010 quest'articolo e quanto è brutto che io sto in mezzo alle balle quindi pigliamo la camera e spostiamoci di qua eccoci qua si rompa un po' meno le scatole ah sito in php autorea.it vabbè ragazzi è roba vecchia è roba vecchia ma andiamo sul contenuto ah il mito è che gli etf in leva non sono ok non sono adatti per investitori buy and hold a lungo tempo cioè per investitori che comprano e tengono etf per lungo tempo questo è un mito come dire fino a ieri anch'io cioè in realtà non proprio allora qual è il mio rapporto con la leva sono convinto che ha un ruolo può avere un ruolo non ho ancora trovato le implementazioni valide l'unico esempio interessante che ho visto questo è quello che forse poi arrivermo a vedere che spiega Nicola Protasoni che poi tra l'altro fra due settimane avrò qua in live qua dalla cripta e quindi magari chiederò molto a lui sugli investimenti in leva investiti in leva che dovete immaginare non quelle puttanate sui vostri i brokerini con CFD che andate a 10 per in leva può anche significare 1.1 1.2 1.5 per Nicola Protasoni nell'articolo che forse vedremo dopo parla appunto di come lui ha investito in un portfoglio 90-60 è un bellissimo articolo forse lungo forse non lo vedremo un 90-60 inteso come 90% stocks 60% bond che è un 60-40 in leva 1.5 per e dagli studi sul max drawdown si trova che riesce a essere piuttosto efficiente volatilità più bassa poi ci arriveremo probabilmente quello è un esempio di leva utilizzo di leva piccola altro esempio di utilizzo di leva è quando prendi un lieve margin loan dal tuo broker hai un milione investito prendi 200k hai un milione e due e investi un milione e due sei esposto in leva 1.2 per qual è il rischio della leva? il rischio della leva è la perdita totale la perdita all'azzeramento del portfolio se vado in leva 2 per se ho un investimento da 100 prendo in prestito 100 per andare in leva su 200 oppure utilizzo un prodotto in leva 2 per e il sottostante perde il 50% il broker mi chiama e fa la margin call e la mia posizione si azzera se poi il giorno dopo si riprende quel prodotto che ha perso il 50% io non ne beneficio perché ho già perso tutto sto già a zero quindi il rischio della leva è la perdita totale cosa che non accade se non va in leva a meno di fallimento di tutti i sottostanti una leva a mio avviso è solo sensata se il rischio di azzeramento totale è pari al rischio di essere copiti da un asteroide ok? ok? fare leverage significa fare trading? no fino a ieri qualcuno poteva dire sì andare in leva significa star speculando nel breve periodo questo articolo vuole un po' debancare il mito che in realtà leva potrebbe aver senso per investitori a lungo termine buy and hold ti compri nel tuo portfolio che tieni per i prossimi 50 anni qualche prodotto in lieve leva ok? questo è il senso ora andiamo a vedere un po' le argomentazioni ok quindi gli etf in leva non sono ok per gli investitori aspetta aspetta questo devo metterlo eccolo qui questo va nella camera group scusate ok ok quindi fare leva non significa fare trading fare trading talvolta si fa in leva talvolta no ma fare leva non significa fare trading vedete il mito espresso in tanti modi è il tipo non va bene per gli investitori buy and hold gli etf in leva tendono a deteriorare dopo tempo il compounding uccide gli etf in leva sono l'everage tf version insanity bla 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 ti fanno diventare pazzo sono tossici bla 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 ok c'è anche un articolo che li compara alla influenza su in alla viaria cos'è questi questi claim non sono supportati da dati matematici e così via questo articolo vuole vuole mostrare come come sono falsi ok allora cos'è un etf intanto partiamo da cos'è un etf in leva c'è un po' di education qui la so questa la so questa la so come si investe in leva cosa che non dovete fare non deve fare nessuno fino a che non abbiamo capito come in leva si può investire in diversi modi uno è semplicemente prendendo in prestito dei soldi ok quindi io posso andare da un amico o una da mia mamma o dal broker e chiede l'imprestito dei soldi e quindi io ho 100 chiedo al broker 100 e ho 200 e investo 200 il fattore di leva ovviamente in caso lì è il 100% perché io ho messo 100 e ho chiesto un altro 100% per andare per investirli sono anche leve più assurde io parto con 100 chiedo 500 e ho 600 investo 600 come la posizione scende di 100 vengo azzerato quindi in leva significa che sono esposto a più sottostante di quello che sto di quello che potrei comprare con senza leva ok altro modo per andare in leva e comprare prodotti che già implementano una leva all'interno ok prodotti che a loro volta utilizzano strumenti in leva un altro modo per andare in leva è usare dei prodotti derivati esiste modo di costruire stock sintetiche che è un modo per andare in leva oppure utilizzando prodotti tipo cfd e altre cose la maggior parte di queste strategie non sono neanche interessanti la strategia di prendere soldi in prestito per andare in leva era quella che per un lungo periodo sembrava essere la più ragionevole perché? perché i soldi in prestito non costavano niente quindi ai tempi in cui questo articolo è stato scritto e ai tempi in cui anche l'articolo di Nicola questo qui che vi lascio vi lascio anche questo qui in chat ma non lo stiamo vedendo aprile 2021 il denaro non costava niente per cui prendere soldi in prestito costava molto poco la 100% grazie mister joff grazie mister joff 5 mesi qui abbiamo una definizione un po' più formale un etf in leva è definito qui parliamo di etf in leva non di investire in leva investire in leva si può anche fare prendendo soldi in prestito o andando in margine sul broker oppure con prodotti sintetici un etf in leva di solito è fatto in modo che il sottostante sia ribilanciato giornalmente in leva rispetto ai sottostanti che possiede tipo una S&P 500 2x significa che l'etf ogni volta giorno per giorno prende in prestito l'ammontare del asset under management e investe il doppio di quello che potrebbe poi a fine giornata rivende tutto e ribilancia il giorno dopo ricomprando quindi ribilanciato giornalmente non c'è modo di non farlo così ci ho pensato tantissimo tempo non c'è modo interessante, intelligente di avere una strategia di un etf in leva che non sia ribilanciamento giornaliero può essere settimanale ok ma quindi chi compra l'etf il mercoledì si trova un'esposizione in leva casuale in base a come sta andando la settimana non vedo un modo per avere un etf in leva non ribilanciato giornalmente sono tematiche un po' difficili e un po' toste ragazzi per cui il linguaggio sarà un po' non volgare un etf in leva è definito dal suo scopo per i nostri scopi un etf in leva è un etf che promette ritorni di un multiplo di qualche benchmark return su una base giornaliera e il multiplo è specificato nel prospetto ok questa è una definizione proprio da black box io sono un prodotto in leva se ti prometto e poi cerco di mantenere il fattore moltiplicativo del sottostante e il fattore moltiplicativo è specificato nel prospetto per esempio un etf che promette ritorno di due volte l'S&P 500 allora se l'S&P 500 va su dell'1.2% in un giorno all'etf andrà su del 2,4% ovviamente c'è da sottrarre costi di gestione e costi del prestito quando i soldi cominciano a costare tanto e prendere soldi in prestito è costoso l'etf questi costi li risbatte in faccia agli investitori di solito queste etf in leva fanno abbastanza cacare durante i periodi di lateralizzazione ora ne parliamo, ci arriviamo fanno eare anche qui non in leva il punto importante su questa definizione è che il multiplo è qualunque numero tipo meno 3, 2,5 e include anche il multiplo 1 e che il ritorno viene viene marcato al benchmark giornalmente e non annualmente questo è vero anche se il ritorno è misurato annualmente comunque il multiplo 1 è incluso per convenienza e nessuno chiamerebbe un etf con leva 1 un etf in leva S&P 500 è in leva a leva 1 vabbè, questo è per definizione origine del mito il mito viene che la volatilità giornaliera fa molto male al ritorno dell'etf in leva incluso anche quello con leva 1 perché questo è dovuto al fatto che 1 più x, 1 meno x fa 1 meno x quadro cosa significa? significa che se se una stocks fa più x per cento e meno x per cento quello che ottengo ha un fattore di secondo livello di secondo grado negativo quindi se fa più 10 per cento meno 10 per cento in realtà da 100 rimango con 99 100 meno 10 per cento fa 90 più 10 per cento fa 99 o il contrario 100 più 10 per cento fa 110 meno 10 per cento fa meno 11 quindi fa 99 e questo qui è amplificato dall'andare in leva ho fatto un piccolo spread scettino piccolo spread scettino ho fatto ok ho messo ho quantizzato i periodi si può giocare con i ritorni e qui abbiamo tre porfoli con tre diversi fattori in leva ad esempio leva 1 leva 2 leva 3 ho messo come esempio ritorno del più 12 per cento il primo giorno e meno 10 per cento il secondo giorno in un porfolio normale se voi avevate 100 il primo giorno del 112 perso il 10 per cento che è 11.2 è andato a 10,8 comunque siamo in positivo rispetto alla partenza un porfolio 2 che è in leva 2 ad esempio ok un porfolio 2 che è in leva 2 il fatto che il primo giorno fa più 12 per cento fa più 24 per cento ma il meno 10 del secondo giorno è meno 20 per cento e si va sotto il punto di partenza leva 3 addirittura fa sì che è ancora più pesante questa cosa qua ok quindi diciamo che se il mercato va su mettiamo che fa 1 per cento 1 per cento 1 per cento per 5 giorni fa 1 per cento ovviamente ovviamente l'etf più leva è meglio è ok 5 per cento 5 per cento al giorno e ovviamente questo potrei fare che ci metto un if value diciamo così modifichiamo la formula in realtà if if not if dove sta if if it's not an n no if empty if empty is empty is number is number questo di così posso permettermi di di 3 allora questo se no niente vediamo un po' se funziona ok non funziona questo va qui ok non funziona non funziona vabbè facciamo così voglio fare una cosa carina ma non sta a funzionare ah ci sono aperti se troppo voglio vedere che se non mettevo se mettevo niente qui il grafico diventa sminchio vabbè non voglio perdere troppo tempo se invece ho un'alternanza di valori negativi e valori positivi l'effetto l'effetto della leva si sente pesantemente se mettiamo ad esempio anche meno 5 qui ecco lì che il portfoglio più leva è anzi amplifico la leva non so leva 5 si vede ancora maggior ragione come il portfoglio in leva performa peggio perché perché andare su mettiamo qualcosa che lo porti a 0 se io faccio più 10% e meno 11 e meno 11 meno 10% e più 11 torno più o meno lì più 11,1 periodico ecco che torno a 0 questa è una sequenza che è neutra per la leva 1 meno 10 più 11,1 meno 10 più 11,1 meno 10 più 11,1 il portfoglio 1 resta sempre a 100 gli altri vanno a farsi fottere ok detto questo io pensavo che la leva funzionava sempre con i soldi iniziali ma iniziali di quando? cioè tu immagina che ok oggi parte un un etf in leva ok e non viene mai ribilanciato quindi la leva è sempre sui soldi iniziali quindi l'etf parte con non so 10 milioni di asset under management e altri 10 di leva poi il mercato va male e l'etf ha 11 milioni quindi sta a un milione dalla margin call chi compra quell'etf deve sapere giorno per giorno qual è l'effettiva leva sui soldi che stanno dentro è un po' un casino oppure mettiamo le cose che vanno particolarmente bene e a un certo punto l'etf arriva ad avere 100 milioni di asset under management di cui 10 sono presi in prestito la leva è troppo bassa a quel punto c'è leva 1.1 è poco interessante chi entra ha avuto una promessa di un etf a leva 2 e si trova un etf a leva 1.1 questo è quando dico che non c'è modo di pensare a questi investimenti automatizzati con etf se non a ribilanciamento giornaliero però ok qui stiamo vedendo come una leva una leva alta va molto male subisce le fluttuazioni in maniera in maniera peggiore di un etf non in leva ok in periodi di alta volatità va evitato come la peste esatto se non per fare appunto gambling trading per cercare di indovinare quando ma non non è divertente come gioco ok quindi supponi che il market spiega la stessa cosa che ho detto io qui ok se il market va su del 5% o giù del 5% non è giusto bla 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 perché x quadro quindi ogni volta che il market c'è volatilità noi perdiamo soldi è chiamato volatility drag ok più largo è x più largo è x quadro va bene ok anche un etf con leva 1 ha volatility drag in realtà non la chiamerei volatility drag perché meno 10 più 10 non è una situazione simmetrica per essere simmetrico dovresti avere meno x e più l'inverso 1 fratto x diciamo 1 più x 1 fratto 1 più x cambiarlo meno 1 più fratto 2 casino dovresti avere un ritorno opposto cioè non puoi non puoi comparare un più 20% con un meno 20% non fa 0 non funziona così quindi in realtà non mi piace questa frase qua non mi piace perché l'etf a leva 1 non lo chiamerei volatility drag ok comunque il mito risulta dal fatto che il volatility drag di ogni porterà il leverage etf a 0 se gli dà abbastanza tempo ma noi sappiamo che la leva 1 senza leva è safe è safe di tenere fino all'infinito anche se la leva 1 ha volatility drag ma a me sto principio non mi convince se one time leverage is safer then is 1.0 one time leverage safe è la domanda se 1.1 è safe quindi che c'ha di speciale il 2 per dov'è che tracci la linea tra safe e unsafe questo è un buon argomento ma non per il volatility drag questo è un buon argomento in generale leva 1 è safe per definizione non ti accadrà mai che ti fanno una margin call non c'è nessun margine non c'è nessun prestito leva 1.01 è safe non è safe beh più andiamo su con la leva e più diventa interessante capire altri parametri cioè che significa safe significa quante sono le probabilità che tu perda tutti i soldi che venga fatta una margin call che vada a zero il portfolio ci basiamo su volatilità stimata volatilità storica e così via è ovvio che come ci spostiamo da leva 1 subentra più unsafety può darsi che 2 è ancora safe boh che ne so vabbè vediamo un po' il mito possiamo mostrare che l'unsafety ci sono ragioni per cui possa non essere safe a leva maggiore di 1 ma non è dovuto al volatilità di drag qui 135 anni di The Charby Law Show 135 anni di daily US price going back fino al 16 febbraio 1885 sì fino al 1885 la costruzione di quest'indice è descritto in un articolo del 1990 e l'index usa il capital index no dividends reinvested S&P 500 data da Yahoo.com has been used to bring the data up fino al 2009 purtroppo ci fermiamo al 2009 cosa ci dice questo qui? questo è un grafico che ci dice come sarebbe quale sarebbe il compound annual percentage return in base alla daily leverage vuol dire se avessi avuto leva 0 avrei avuto 0 di ritorno a leva 1 dall'85 al 2009 il capital return è 4% di ritorno ma attenzione a leva 2 avrebbe tornato quasi il 5% se uno avesse avuto modo di investire con dati giornalieri a leva 2 a leva 3 sarebbe andato molto male gli circoli arancioni mostrano delle popolari leve 1 2 3 per esempio è just for show 4 si può vedere che aumentando la leva da 0 a 1 aumenta l'annualized return come possiamo aspettarci più sono investito immaginate leva 0 1 è percentuale di soldi investiti versus percentuali di soldi che tengo in cash se io tengo 50% in cash investiti nell'SMPC questi dati qua che sono daily US index prices da capire come è costruito non c'era neanche l'SMP500 allora se tengo metà dei soldi in cash e metà in investiti e ribilancio giornalmente ho un 0.5 di leva e quindi mi aspetto un ritorno più alto della metà di questo ritorno perché faccio rebalancing col cash e dato quello che è successo mi troverei qua sopra però questo qui mostra che facendo calcoli che non ho modo di verificare che c'è un massimo che per questi dati specifici non è che vale in generale per questi dati specifici è stato opps dove sta eccolo qua attorno al 2 forse 1.8 1.9 eccolo qua non c'è niente di magico non c'è nessun nulla di speciale su leva 1 nulla di speciale non c'è nessuna ragione matematica per i ritorni per essere massimi a leva 1 i propagatori del mito sbagliano gli etf in leva possono essere tenuti a lungo per anche 135 anni secondo i dati di questo studio prima cosa che non mi piace è interessante è divertente vedere che come all'aumentare della leva cambia qualcosa ma il massimo non sta 1 per questi dati specifici adesso se vediamo la borsa di Tokyo è diverso la cosa interessante da capire è che no volevo dire la cosa che non mi piace è che questo qui è puramente teorico puramente teorico non c'è alcuna implementazione nel senso che tiene conto dei costi dell'andare in leva non mi sembra che tenga conto di questa cosa qua tiene conto dei costi che ha un etf per implementare la leva non soltanto i costi dei prestiti che deve prendere ma anche soltanto fa trade giornaliere questo etf fa molte più operazioni molte più operazioni e molti più costi quindi mi aspetto che questi etf abbiano un ter molto più alto ter molto più alto poi li vedremo e li vedremo settimana prossima negli etf che fanno questa roba qui perché settimana prossima vorrei fare un etf fight con molta roba in leva e via quindi possiamo vedere che i ritorni cominciano a peggiorare quando la leva raggiunge più o meno due ok a quel punto sì in effetti alcuni swing hanno distrutto e a un certo punto in poi a 3.7 di leva tisanziera il patrimonio su 135 però ecco qui mancano a mio avviso i dati sui costi effettivi per implementare questa strategia quindi quello che i propagatori del mito sono dimenticati di dire è che ci sono due fattori che decidono i ritorni della leva degli etf in leva il benchmark return e il benchmark volatility se il benchmark ha comunque avuto un drag positivo allora può darsi che il amplificare questi ritorni più che compensa la volatilità ok bene allora vediamo un po' the formula for etf long term return la formula per il long term compound annual growth rate di un leverage etf non può essere scritta in termini di just benchmark e volatility bla 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 ci sono anche termini come la skewness il curtosis ok siamo in cose troppo complicate ma c'è una formula ok non entriamo troppo in dettaglio r è il compound daily growth rate dell'etf k è la leva mu è la mean daily return del benchmark sigma è la volatilità giornaliera bla 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 ok quello che troviamo quello che troviamo quadratic function ci sono cose molto complesse e c'è un grafico su come si comporta il ritorno in base alla volatilità e l'arithmetic daily return faccio difficoltà a capire perché considerare l'arithmetic daily return non il geometric daily return ammetto che non capisco come possa adesso non ho visto il paper ma non capisco come possa esserci l'arithmetic daily return qua sopra non il geometric anyway abbiamo delle abbiamo delle delle zone ok quella r ha una ha una una curva di come dire zero ma ha delle zone con maggior guadagno che sono quelle con daily return alto e volatilità bassa ovviamente comunque via la teoria andiamo sulla pratica vediamo alcuni altri mercati S&P 500 tra il 1950 e il 2009 LOL LOL 59 anni per assurdo se avessi avuto un prodotto teorico a leva 3 o anche 3 qualcosa avresti battuto di gran lunga un prodotto a leva 1 nonostante le fluttuazioni dal 50 secondo me se c'era dentro dal 29 sta roba non funzionava eh mu e non mi il Dow Jones invece dal 28 ecco qui dal 28 al 2009 però anche qui siamo attorno all'Eva 2 sarebbe stato ottimale senza costi senza il resto Nasdaq dal 71 al 2009 2009 è un periodo un po' questo comprende anche la Great Financial Crisis Nasdaq leva 2 qualcosa è l'ottimale Russell 2000 sono small cap americane siamo su leva 2 l'ottimale Australian bla 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 roba australiana per 25 anni stiamo su 2 e mezzo di leva ottimale il Nikkei ecco qua un esempio fantastico fantastico il Nikkei invece sarebbero stati cavoli amari cavoli amari perché? perché il Nikkei ha avuto un po' troppo un po' troppo volatilità quindi immagino anche se prendessimo le stocks italiane credo che sia fine 2009 credo che sia fine perché l'articolo del 2010 immagino che avrà usato cioè dai non voglio crederci che l'articolo menziona il 2009 e non lo menziona intero quando il 2009 è stato un anno particolare nel senso cioè scrive l'articolo a maggio 2009 mentre c'è la Great Financial Crisis in corso e i dati li usa fino a febbraio e cioè non la vedo fatti in genere l'anno intero e incluso estremi sia a destra che a sinistra quindi ecco qua il Nikkei ha avuto ritorni pessimi zero zero chissà come si è comportato a leva 2 non leva 3 good luck ad esempio l'FT600 è quello britannico qui siamo su UK abbiamo leva 1 leva 2 che sono indifferenti e questo non so cosa sia penso a New Zealand l'autore è australiano per cui magari questo è un mercato locale NZX all non so cosa sia interessante qui ha ha plottato i mercati vari e ha mostrato l'andamento rispetto alla volatilità e arithmetic daily return ok il pattern è molto chiaro su molti mercati una leva 2 è ottima rispetto ad altre per assurdo sul Nasdaq o qui su S&P 500 è stata ottima anche la leva 3 ma secondo l'autore dell'articolo leva 2 sembra essere ottima in un mercato magari molto ottimista e così via l'eccezione del Nikkei dove la leva ottimale sarebbe stata 0.5 ma comunque non 1 niente di speciale su 1 ok but 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 qualcuno è un po' stupito qualcuno è un po' stranito qualcuno è vivo vedo 180 persone in live ma siete tutti ammutoliti domanda quanto tutto ciò ha impatto su un classico portfolio ha veramente senso applicare una piccola percentuale ha senso dedicare dello studio per capire se ne vale la pena o meno secondo me ha senso è ovvio che se parliamo di uno che ha 10k magari ha poco senso se parliamo di un portfolio molto grande può aver senso fra una decina di giorni avrò qui amico avrò qui ospite il mio amico Nicola che ha scritto articoli sulla leva e che lui stesso investe un pochino in leva su prodotti 90-60 e ha fatto anche dove sta dove sta dove sta non so se c'è anche qualche se cerchiamo un 90-60 portfolio wisdom 3 ad esempio questo è un fondo questo è un fondo 90-60 che investe 60 stocks 40 bond in leva 1.5 e fa vedere che rispetto a un 60-40 ritorni maggiori con volatilità minore bla 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 sembra interessante un 90-60 mi viene da pensare boh chissà come si comporta in un periodo di alto costo del denaro e chissà che costi ha poi anche lui diciamo che sarebbe da vedere quanto mi costa è interessante trovo che sia interessante non so ancora bene cosa farmene di queste informazioni ok aspetti fiscali poi altri problemi altri problemi ma trovo che sia interessante comunque chiederò a Nicola direttamente ci sono ragioni ci sto a capire così poco ma persisto nell'ascolto più che altro perché l'ha fatto su intervalli così piccoli così piccoli che intendi sta anche dormito 100 anni stai così piccoli mi sembra i dati vanno indietro di quelli che ha a disposizione qui abbiamo dall'84 al sono 25 anni comunque sono 25 anni che hanno dentro sia il crash del dot com bubble però tutta quanta la bull run del pre dot com bubble gli anni 80 e 90 sono stati anni meravigliosi per i mercati quindi in effetti potrebbe essere un cherry picking però comunque il cherry picking con l'estremo destro al bottom del mercato della great financial crisis non è proprio un cherry picking fatto benissimo quindi mi sembra che i dati sono abbastanza buoni su Nasdaq S&P e Dow Jones abbiamo anche molti più dati ok eh ma come adesso anche i tassi alti non sto cercando di capire anch'io teoricamente il fatto che i tassi sono alti pensateci due anni fa conveniva che i tassi erano bassi eh guarda come è andato il mercato due anni fa fino ad oggi presso il 15% oggi i tassi sono alti eh però se i tassi sono alti e il costo opportunità degli investitori è comunque alto vuol dire che i ritorni attesi sono alti no quando il denaro costava zero i bond davano zero tutti i fondi pensione pure qua in Svizzera hanno investito in stocks anche quando i prezzi erano anche quando i multipli erano altissimi ora che c'è una bella alternativa ora che dici i bond mi danno il 5% chi me lo fa fare a investire in stocks le stocks le stocks saranno apprezzate in modo tale che tutti i discounted cash flow analysis dei value investor dicono ok questo è il prezzo giusto ok questo è il prezzo giusto tale che il ritorno atteso nei prossimi anni compensa il risk free rate più un market come dire più un market risk come dire un compensated risk il non ho mai il nome un KPM come cavolo si chiama quindi teoricamente dovrebbe essere interest rate independent però sto studiando ragazzi non ho non ho non ho non ho formule magiche ho appena detto che probabilmente se uno ha un portfolio molto grande può aver senso io ci sto pensando per il mio portfolio farlo evolvere in qualcosa di lieve leva ci sto pensando devo capire bene chi ha pochi soldi non ha senso in realtà tutto il discorso dell'investimento in leva nasce dal fatto lo menzionava anche Ben Felix in qualche suo video sul come potrebbe aver senso per chi è molto giovane per avere un'esposizione più ampia al mercato nei primi anni di investimento e più bassa a fine vita perché perché altrimenti il gioco dell'investimento a lungo termine è un gioco molto sbilanciato verso gli ultimi anni della tua fase di accumulo cioè se io investo per vent'anni mille euro al mese i ritorni del mercato nei primi anni mi fanno un baffo i ritorni del mercato negli ultimi anni mi uccidono se il mercato perde il 50% il primo anno mi fa una carezza anzi sono contento se il mercato perde il 50% l'ultimo anno prima di andare in pensione e vivere di quei soldi mi uccide come posso proteggermi la parte diciamo finale la si può proteggere riducendo l'esposizione andando in leva 0,5 tra virgolette ma la parte iniziale come posso avere più essere più esposto ai mercati nei primi anni andando un po' in leva però da capire come da capire come ok ci sono comunque ragioni per non tenere a lungo termine gli etf in leva sfortunatamente ci sono ragioni there may be ci potrebbero essere ragioni ma non ha niente a che fare col volatilità di drag è per i costi è per i costi molti etf in leva dove la leva è maggiore di 1 ti appioppano un costo annuale dell'1% circa e questo impone un fee drag sull'etf ovviamente 1% sono i miei 30 anni sono cavoli also gli etf in leva hanno problemi di tracking error non 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 match esattamente i loro target giorno per giorno dallo studiare alcuni etf in leva è stato osservato che il tracking error è un po' complicato e fuori lo scopo di questo documento per esempio gli errori sono molto correlati che significa che se un etf è un po' short of the mark one day se va un po' male rispetto al mark tende di farlo anche nei giorni successivi quindi c'è anche una correlazione di tracking error in generale il tracking cos'è il tracking error è la differenza tra il benchmark e il tuo ritorno attuale ok in generale anche questo tracking error aggiunge extra volatilità all'etf e quindi c'è anche una volatilità di drag dovuto al tracking error ma dovuto alla serial correlation e relativi degli small size del drag effect questo è piccolo rispetto ai costi quindi il tracking error può essere ignorato per questo articolo ma proviamo a metterci i costi ok utilizzando un annual fee dell'1% valore tipico è interessante quindi mettiamo anche un fee dell'1% e ricalcoliamo tutto quanto eccolo qua abbiamo che ad esempio linea continua è un etf teorico in leva e quindi leva 1 torna a 4% su stock market americano dall'85 al 2009 e tratteggiato un etf in leva con un fee dell'1% questo qui è ritorno medio annuo bla 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 ecco qui che magari quello leva 2 ma con un fee dell'1% ha reso come su 150 135 anni come 1 senza leva leva 1 ma senza fee è ovvio che magari un fee ce l'ha anche questo qui 0 1 però ecco lì che i fee distruggono però distruggono sulle stocks americane su prodotti molto gross magari eccolo qua sul nasda sull'SP500 in realtà nonostante i fee è ovvio che teoricamente il leva 3 avresti avuto 14% giornaliero con i fee scendi a 12,5 pallino pallino questo qui che è molto meglio di quest'altro però stiamo facendo un po' di ok quindi ok quindi quindi se non ti posizioni a leva 1 ti stai posizionando su un punto che però non sta nella curva ideale dei ritorni giornalieri presi giorno per giorno e analizzati ma stai sotto perché l'etf ha almeno un drag dell'1% giornaliero peccato peccato questo modello assume nessuna correlazione sul track overestimating ed effetto tracking or result il ritorno suggerisce che l'effetto del tracking error nei ritorni può essere negligible e c'è più work in progress che non abbiamo proprio visto ecco qua che ad esempio tenendo conto sia del sia del tracking error che dei fee abbiamo la linea grigia che però onestamente è simile a quella tratteggiata ma che rende difficile l'utilizzo degli etf in leva etf in leva possono essere tenuti a lungo termine bla 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 sembra che per molti mercati nei momenti recenti la leva ottimale è 2 qualche mercato addirittura storicamente ha dato un reward maggiore a leva anche più alte fino a 3 nessuno fino a 4 però 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 con i fee non ci rientriamo usual warning despite the findings in this article the usual warning about leverage is applied to leverage etf in un mercato che cresce la leva maggiore di 1 boosterà i tuoi ritorni in un mercato che decresce li distruggerà gli etf in leva possono raggiungere 0 se il market crolla abbastanza in un singolo giorno tu puoi perdere tutti i tuoi soldi quest'articolo non ha provato che la leva ottimale è 2 ha solo dimostrato che 2 è stata la leva ottimale in passato sui dati il futuro might be different cosa dire a me questo articolo è piaciuto mi lascia più domande che altro è molto poco actionable però mi fa capire come nonostante le volatilità di drag la distribuzione di ritorni può dare valori interessanti ok domande 0 95 si lui intende il ter del prodotto si si link all'articolo lo trovate qui ma comunque lo rilinco lo rilinco qua in chat allora non ho capito una mazza dice mister una cosa una mazza con leva maggiore di 1 l'orizzonte temporale deve essere breve e può avere un senso del meglio qui parliamo soltanto di long term anzi parliamo di almeno 25 anni quindi l'orizzonte short term è solo speculazione cioè è solo speculazione e c'è gente si è divertita sotto covid si è divertita la gente a farsi male o a fare grandi guadagni con gli etf in tripla leva sul nasdaq tipo sqqq o tqqq fantastico giù l'itm le expected return si scontano col valore di tassi di interesse è interessante sarei curioso qui i fi mette i fi del i costi mette i costi dell'etf circa 1% anno grazie andrea sprn però non teneva conto del costo del denaro cioè non credo che con un ter dell'1% anno un etf a leva riesce a darti anche la leva come come fa mi spiego meglio se io sono un etf a leva 2 no sp500 2x ne esistono sta un provider upro 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 shares leverage etf dove sta ultra ultra pro ultra pro ultra pro ultra pro shares ultra pro ultra pro questo è tutto fuorché un tutto fuorché tutto fuorché un consiglio di investimento questi qua pro shares hanno soltanto etf in leva dove sta leverage etf tutte le voglio tutte tutte eccole qua belli 2x 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 meno 1x 2x 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 meno 1x questo è uno short da 3x qui per farsi pro male questo è proprio il casino i pro shares è l'emittente per farsi male non fatelo non fatelo e ricordo che sotto covid andavano tantissimo di moda i 3x e i meno 3x dove stanno dove stanno i 3x e i meno 3x i 3x eccolo lì qqq eccoli qua c'è ultra short c'è qi d e ql d che sono meno 2x e 2x ma c'è la di meglio short 3x short nasdaq e 3x nasdaq e è divertente se vedete tqqq return è divertentissimo è divertentissimo mettete su year to date eh il più 90% però è per farsi pro male ragazzi questa roba qui non fatelo a casa do not play with this è un triplo nasdaq però la domanda qual era? la domanda era io ho fatto una domanda la mia domanda era come fanno a darti un ter del 1% un etf che va a 2x in leva se il costo del denaro adesso è il 4% 4% poi good luck a trovare il 4% cioè se io ho un etf che ha 10 miliardi di asset under management e ne prendo 10 miliardi in prestito giornalmente e il mercato va piatto il mercato non fa niente sono tutti i giorni 0% a fine anno mi troverò con se avevo c'erano 20 milioni di asset under management con la leva mi troverò con ancora 20 milioni l'etf preleverà il suo 1% quindi 19 milioni ma chi ha presa dei soldi vuole il 4% che facciamo? 1% di 20 non è 1 non è 0,2 quindi rimangono 19,8 dopo che ha preso i soldi l'emittente ma chi ha preso i soldi vuole il 4% come fa? dove sta? lo si trova nel tracking error giornaliero il tracking error giornaliero dragga di quella percentuale di margin loan preso e allora però ti voglio non ci credo che ha questo impatto dove sta? non ha questo impatto grigio se il costo anno dell'etf è il 1% il costo del denaro è il 4% non mi torna qualche conto qualcosa non mi torna bah potrebbe quindi essere teoricamente preferibile un mercato emergente per un leva 2 nel lungo periodo non usciranno mai dalla mia bocca queste parole perché non è un consiglio di investimento credo che i mercati ad alta volatilità i mercati ad alto valore atteso siano benvenuti i mercati ad alta volatilità non siano i benvenuti però in genere alto valore atteso coincide con alta volatilità quindi tutto sta a capire dove posizioni il tuo prodotto su questo su questo grafico cioè dove quant'è la volatilità giornaliera non annuale quanto mi aspetto sia la volatilità giornaliera e quanto mi aspetto sia il ritorno medio aritmetico giornaliero tipo le commodity non puoi andare in leva ti ammazzi le commodity hanno un genere alta volatilità e basso ritorno atteso giornaliero quindi un po' un casino scusami ma non sono derivati e non soldi in prestito questo non lo so questo non lo so non lo so ma anche i derivati non è che te li regalano dai che te li regalano secondo me se metti dentro i vari costi del denaro gli etf a leva non prendono una fava probabile probabile non ha senso considerare un ter fisso il ter è il costo il gestore quello che prende poi come si muovono i sottostanti il sottostante avrà dentro anche dei debiti per cui il debito viene noto dal sottostante secondo me questi dati sono un po' bias per quando i tassi erano zero e quindi a tasso zero ci sta però va bene spero vi sia piaciuto questo articolo almeno a livello puramente puramente speculativo mentale rip non usano prodotti derivati mi avevi già chiesto come leap option eh le leap option pensi che costano meno del costo del denaro non lo so non lo so come lo implementano in effetti si potrebbero anche ok ok potrebbe essere interessante studiare come vengono implementati gli etf a leva sintetici potrebbero si anche usare solo derivati però non è che sono non è che te li regalano i derivati eh non è che te li regalano domanda stupida la leva si può utilizzare anche sui bond? se si prendono bond a un anno non sarebbe quasi sicuro e in effetti anche questa qui è una cosa che non mi sono mai non ho mai esplorato qual è il problema della leva sui bond? è che il costo del denaro matcha il ritorno dei bond questo spiega anche perché il costo dei bond i rendimenti dei bond vanno un po' di pari passo col costo del denaro se ci fossero bond al 10% ma i tassi i tassi delle banche centrali al 3% fatto salvo il rischio emittente uno potrebbe prendere in prestito denaro per investire in bond quindi a un certo punto bond a leva significa che stai comunque prendendo in prestito denaro quindi boh non lo so se guarda le leva su azioni singole soltanto a margine solo a margine però lì stai veramente lì stai veramente giocando col fuoco un'azione singola può crollare se leva è 1,01 è un conto se leva già sopra all'uno e mezzo stai facendo gambling oh Simone meno male eccolo qua è arrivato è arrivato Ferrero è arrivata la Ferrero è portata la Nutella però il premium del terra lo usano per comprare option no? non lo so eh però se è 0 c'è tu conta che un etf in leva che ti chiede l'1% di terra e comunque fa un sacco di operazioni perché ogni giorno fa trading ogni giorno fa trading questo etf quanto gli rimane? 0,7 0,5 e lo usano per comprare option 0,5 che option ci pigli l'unica cosa che mi viene in mente così al volo da first principle thinking è che usano stock sintetiche stock sintetiche quindi sono delle long call short put assieme e più magari una put al 50% una leap al 50% in the money cioè cioè se io voglio andare in leva 2x proviamo proviamo io ho 100 e voglio espormi a 200 di prodotto X posso comprare due stock sintetiche di prodotto X però un qualunque broker richiede che tu abbia 200 come capitale però potresti ovviare i 100 più in basso comprando di una put quindi il costo effettivo in leva 2x è una leap di una put al 50% dello strike price ho detto una cazzata troppo complicato la riformulo se tu compri una long call e short put allo strike price hai una synthetic stock vediamo un po' di cose synthetic stock fatta con delle option synthetic stock eccola qui synthetic stock eccola qui ok madonna mia quante brutta st'immagine eccola qua long call e short put messi assieme a strike price quello che vuoi sono una synthetic stock quindi hanno la curva di ritorno identica alla stock ma al prezzo zero perché hai comprato una call e venduto una put quindi zero per fantastico hai una stock a prezzo zero l'unica cosa che il broker non te la fa comprare perché se le cose vanno giù devi avere del margine devi avere del margine per cui come fai a darti del margine se una stock costa 100 e tu ti compri una long call e vendi una short put e vuoi avere solo 50 in tasca devi comprarti una long put a 50 quindi forse quello lì è il costo dell'edging di una leva 2x leva 3x devi comprarti una long put a 66,6 periodico ok comunque posseggo le tf cl2 quindi fra un anno ci aggiorniamo oh non è colpa mia non è colpa mia io ho un amico che è uscito fuori di melone sta facendo trading quindi c'è leva 20x leva 20x è un altro ragazzi non mischiamo le cose non mischiamo le cose è come se io sto spiegando come se io uso un bisturi per chirurgo e arriva uno ma mio amico col macete ha sgozzato 5 persone ok non è la stessa cosa non è la stessa cosa qui stiamo usando bisturi per chirurgo anyway synthetic stocks faremo un deep dive sulle options su queste cose qua mi affascinano anche se mai sono anche inutili ma mi affascinano ok bene questo era il primo articolo purtroppo non abbiamo molto altro tempo secondo articolo dollar cost averaging miti e fallace del dollar cost averaging ok non è colpa tua l'ho preso settimana scorsa sta a meno 11 oggi stai facendo gambling ma in realtà in realtà no non dico niente non dico niente non voglio dire nulla esatto che è il contrario della collar hedging strategy short otm core e long puto quindi ferrero simone stai confermando la mia sono un'intuizione matematica sul come la implementerei io quindi implementerei con una appunto comprando una long put al 50% dello strike price così che io mi basta avere solo il 50% in mano dell'investimento della synthetic stock quindi ecco il prossimo fondo di rip s&p 500 2x sarà fatto con una long call short put a strike price market price e una short è una long put a 50% però comunque anche a un anno quanto costano una put da rollare da rinnovare da quanto a un anno di distanza lo vuoi? non è economica anche se sta a 50% ok va bene grazie della conferma potrebbe funzionare saltiamo di palo in frasca e abbiamo un 20 minuti di tempo miti e fallace del dollar cost averaging questo altro articolo poi il terzo articolo li avrebbe mischiati assieme li avrebbe mischiati mischiati assieme queste due cose ma non ci arriviamo comunque dollar cost averaging cos'è il dollar cost averaging? è il investo un po' alla volta invece che tutto assieme se io ho mille e devo investire mille ho mille mila ho 100k e voglio investire invece di investire 100k tutti assieme li investo un po' alla volta in un periodo x mesi giorni anni e così via pro e contro pro è che ho meno volatilità sul punto d'ingresso per cui se io investo tutto quanto oggi in un asset allocation e domani il mercato perde il 10% in una simulazione montecarlo che stimula tanti scenari futuri il mio ventaglio di outcome è molto molto sparpagliato se invece investo regolarmente per un periodo di tempo il mio ventaglio di possibili outcome è molto più ristretto molta meno volatilità al costo di un minor valore atteso perché comunque prima investo tutto meglio è se ipotizzo che ogni giorno ogni secondo sul mercato il valore atteso è maggiore di zero i soldi che sto aspettando a far mettere in gioco i soldi che sto tenendo per fare dollar cost averaging stanno perdendo opportunità nel frattempo quindi questi sono pro e contro valuti di più la peace of mind di entrare un po' alla volta avere meno volatilità nel punto d'ingresso valuti un po' di più il maggior valore atteso vediamo un po' quest'articolo di cosa parla di cosa parla tipo le collar option sono dove sono più esperto la gente si espone pian piano nel tempo fino a 12 mesi 5% e poi ogni mese sono interessato se mi mandi qualche link Simone lo leggo volentieri potrebbe essere anche la via per poter esporsi un po' di più quando si è più giovani in maniera safe collar option non conosco miti e fallaci del dollar cost averaging dollar cost averaging è un metodo link a cosa? dieci anni fa a wikipedia è un metodo per investire che distribuisce un investimento in equal monetary amounts che sono che sono poi periodicamente investiti su uno specifico periodo di tempo ad esempio divide 12.000 e investire 1.000 al mese per 12 mesi questo è un esempio ok nota che non definiamo regular investing ad esempio i risparmi mensili del tuo stipendio come dollar cost averaging DCA è quando tu hai una scelta lump sum versus dollar cost averaging ok è ovvio che tutti naturalmente investiamo un po' alla volta perché i soldi ce li abbiamo un po' alla volta però la domanda è ricevo un'eredità investo tutto subito un po' alla volta DCA è promosso si dice che dia due grandi vantaggi uno riduce il timing risk di entrare nel mercato da prevenire da investire tutti i tuoi soldi prima di un crash eventualmente e due aumenta i tuoi ritorni perché compri nel mercato a un lower average price si la la fiabetta dell'aumento al tuo ritorno è facilmente smontabile ovviamente perché tutti un tempo tipo dieci anni fa leggevo anche dei blog di personal finance i blog di fire che mostrarono come se un prezzo fluttua e fai dollar cost average e compri share a un prezzo meglio più basso però è una fallacia gigantesca gigantesca quindi sulla seconda parte potrei trovarmi ad essere d'accordo tutto il tempo con con il con il con l'articolo bla 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 typical quote per l'uno dice riduci il rischio di investimenti prima che il market crolla va dividendo gli investimenti su tutto l'anno vabbè questo non è questo il motivo non è che riduci il rischio che investiti prima di un market drop perché potrebbe essere il market drop alla fine dei tuoi investimenti vabbè è per ridurre la volatilità il market drop lo gestisci in un altro modo un typical quote per il numero due è di solito usually giving a better return than paying a large amount say once a year vabbè no purtroppo nessuno dei due statement è vero l'uno se non è l'uno riformulato è vero per forza in questa formulazione ci sta che mi sembra un po' una puttanata il due è palesemente falso per cui mi trovo d'accordo fino adesso a tre quarti con quello dove sta andando l'autore che il primo è falso è easy to show i market crash arrivano a caso non cambia nulla se tu investi in una somma o 12 più piccole appena 600% investito potrebbe arrivare il market crash per cui a meno che non puoi predire i crash con esattezza non c'è nessun modo di mitigare investendo un po' alla volta proprio mitigare la volatilità quello lì sì è facile a dimostrare che prendendo simulazioni storiche facendo dollar cost averaging versus lump sum hai minor volatilità tutto qua il due è facilmente mostrabile essere falso di media i mercati vanno su giorno per giorno quindi aspettando ad entrare stai perdendo stai aspettando di aumentare il prezzo che paghi per entrare nel mercato quindi on average dollar cost averaging reduces your return e questo è vero questo è indiscutibile grazie estermi tv diciamo che il dca è per chi prende lo stipendio e quando arriva investe sì ma non è quello lì non è dca quello lì è investo lump sum ogni volta piccole piccole lump sum ok Paolo Corretti ha fatto un video su differenze tra pacche e investire tutto subito ok grande Paolo allora la quote l'affermazione più i prezzi cambiano più guadagni dal dollar cost averaging dovrebbe essere più corretta detta così più i prezzi vanno giù più guadagni dal dollar cost averaging grazie the count di 1993 the only time it increases your return ok l'unico momento in cui ti dà più vantaggi di fare il dollar cost average è quando investi durante un bear market mentre il mercato va giù ma se sei smart abbastanza di predire quando c'è il prossimo bear market allora dovresti aspettare fino a che è finito il bear market e poi investire lì ovviamente mostra che la fallacia del dollar cost averaging per avere più ritorni è una fallacia sono d'accordo mediamente c'è un bear market 25% del tempo è difficile predire quando arriva quando inizia quando finisce quindi nel 75% delle volte avresti avuto meglio avresti fatto meglio investire tutto subito siccome il mercato va su bla bla questo è ovvio è ovvio andiamo a vedere con l'S&P 500 ok un altro claim è che oh eccolo qua un altro claim che fanno chi parla del dollar cost average è che smooth smooth out the volatility riduce la volatilità e altri altri claim sul risk reduction of course it does oh ok allora siamo d'accordo perfetto finito finito siamo d'accordo non disputiamo questo fatto il risk reduction comes about because you are only partially in the market part of your investment stays in cash if you like that then go for the whole hog and stay 100% in cash va bene va bene va bene allora distinguiamo però ok quindi siamo d'accordo che dollar cost average riduce la volatilità però grazie al cazzo riduce pur se stai se stai in leva 0.5 se stai 50% in cash in quanto hai investito hai meno volatilità grazie al cazzo quindi a sto punto perché devi entrare nel mercato il vantaggio numero uno dell'all cost average è psicologico entrare nel mercato un po' alla volta aiuta chi non ha mai investito chi ha poca esperienza ad assaggiare quanto può gestire la volatilità ad assaggiare se una asset allocation fa per lui o lei oppure no questo a mio avviso è il vantaggio principale e è spiegato benissimo benissimo in un meraviglioso Rational Reminder Rational Reminder Podcast Ben Felix Cameron Passmore Mr. Rip Rational Reminder nell'episodio sul quello il 258 che a mio avviso è il più bell'episodio dopo il 257 il 258 del Rational Reminder è Financial Decision for Normal People Professor Mayer Statman stra consiglio e è tutto quanto un metto qua il link è tutto quanto un ok questa roba qui è in parte irrazionale ma fa star bene l'investitore quindi quanto l'aspetto behavioral va preso in considerazione e ha impatto sulle scelte quotidiane per assurdo gli fanno anche la domanda ma quindi dollar cost average o l'amp sum e si in teoria l'amp sum performa meglio ma il rischio che qualcuno faccia grandi cappellate esca di corso faccia 20 cappellate va guarda un bel video di Ben Felix non ho capito aspetta domanda un po' off topic dai non è il momento quindi conviene quindi di ca non è detto dipende 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 non c'è un conviene c'è un ti spiego i fattori se sei un se sei se hai tre k da investire è irrilevante se sei un giovane fang worker sei un software ingegnere appena assunto in google e guadagnerai un botto di soldi è irrilevante quello che prendi ogni mese lo investi lo risparmi quindi fai per forza di cose total cost average quando è che sta roba ha senso? ha senso per chi ha vinto eredità ripeto e prendi pum e ti arrivano 100k e non sai che farci oppure inizi a investire in tarda età quando hai già un certo patrimonio che è uguale ad aver avuto un'eredità quindi trovi sai fino ai 37 anni non ho investito poi mi trovo 200.000 in cash non so cosa fare questi scenari quelli in cui hai un certo capitale e poca esperienza di investimento a mio avviso dollar cost average è no brainer andrebbe fatto per forza a meno che non vuoi chiuderti gli occhi e delegare qualcun altro e quindi quel qualcun altro potrebbe anche decidere andare l'amp sum tanto tu non lo sai non sei esposto al rischio di fare panic sell o altre cose del genere quindi in generale se uno ha poca esperienza e qualche soldo ha più senso l'over cost average comunque vi straconsiglio di vedere questo video di di Mayer Statman al Rational Reminder Podcast ok purtroppo purtroppo non è il più popolare il più popolare insomma è quello con Mr. Rip no non è ma sto in 14esimo 14esimo dai 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 scaliamo la classifica ok vediamo gli esempi che fa sull'S&P 500 però finora penso ci troviamo d'accordo mi trovo d'accordo con gli autori con l'autore ecco qua abbiamo dal 1800 i dati sull'S&P 500 ricostruiti in qualche modo ricostruiti in qualche modo abbiamo dal 1800 i dati eccolo qua questo si ipotizza un investimento di per ogni mese dal 1800 calcoliamo il ritorno il ritorno sull'anno successivo sia investendo l'AMPSAM oppure splittando l'investimento in 12 mesi uguali quindi abbiamo ogni mese colorato verde o rosso verde era se ti conveniva andare l'AMPSAM rosso se ti conveniva andare dollar cost average come vediamo se stiamo per avere un crollo del mercato conveniva andare dollar cost average l'hanno appena detto 12 mesi ok se stiamo in quasi qualunque altro periodo conveniva il verde diciamo in salita curioso che curioso che qui che stiamo più o meno in salita verde va bene questa è la parte dal 70 in poi un po' prima dal 70 fino al 2000 questo articolo sembra essere un po' più nuovo fino al 2000 non lo so comunque siamo attorno al 2010 sti articoli ok ora dal 1800 il dollar cost average ha vinto soltanto il 27% dei mesi è ovvio che qui stiamo progiudicando ha vinto che significa avuto ritorno maggiore è chiaro volatilità qual è lo sharp ratio dei due investimenti vediamo se poi ci arriva perché se no così ok va bene stiamo solo guardando il valore atteso un po' un po' sarebbe interessate su world e quantificarlo su world ok e quantificarlo certo 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 dal 70 soltanto 26% dei casi un quarto delle volte se tu sai di soldi in mano tre volte su quattro se investi tutto insieme rispetto a che un po' la volta per 12 mesi ti sarebbe convenuto come ritorno atteso però la volatilità un concern legittimo è che abbiamo assunto che le nostre che le nostre non invested portion earns no return good point in realtà potrei potrei dire faccio total cost average ma finché non sto entrando sul mercato con gli altri dodicesimi li investo in bond a brevissimo termine ok non mostriamo ad esempio se facciamo la abbiamo rifatto i calcoli assumendo un 4% di ritorno sul cash non investito che va bene andrebbe fatto contestualizzato ogni mese per mese quanto rendevano i tbil a breve termine allora non mostriamo però fidatevi che le percentuali salgono al 37 31 e 42% DCA bit lump sum investing more often ma le percentuali salgono al che 3% eccole qua 27% è dal 1800 26% dal 70 e 37% dal 2000 sono stati molti un po' troppi bear market dal 2000 ok e se consideriamo il costo del denaro al 4% allora salgono un po' stiamo comunque sempre sotto il 50% però 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 ci mettiamo anche la volatilità che sharp rate quindi investimenti più volatili meglio ok un altro claim interessante è regular investor avranno avranno maggiori ritorni investendo in cose più volatili no? come dice anche Paolo Coletti no? io ho a lungo termine soltanto stocks che ci faccio che i bond è questo è vero? all other things being equal sono gli investimenti più volatili migliori? possiamo testarlo con le nostre simulazioni eccolo qua SP500 ha un mean return di 8,52% per anno e standard deviation di 16,7% perché continuo a mean return? che ci faccio con il mean return? non ci faccio niente con il mean return io voglio il geometric return vabbè simuliamo un sacco di prezzi che hanno come media quello che non si fa così c'è dato scientist che non si fa così non può prendere il mean return non ha senso il mean return vabbè ecco qua abbiamo allora la linea verde è SP500 il blu è 0,25 volte la volatilità SP500 e il purple è 4 volte la volatilità però con ritorno uguali same return è different volatility chi cazzo me lo fa fare? voglio il blu se stesso ritorno è differente volatilità datemi il blu datemi il blu tutta la vita ok ora assumiamo però now we do the simulation many times with different multiple similar volatility and plot the final return in DCA versus volatilità ok ok vediamo un po' se sono sempre estratti la sua distribuzione allora different multiple ok diversi multiple della volatilità di SP500 e plottiamo il ritorno verso la volatilità quindi multiple della volatilità e final amount ok la magenta line è la media del final amount per ogni livello di volatilità non capisco perché non capisco perché in quanto se i dati sono estratti dalla stessa min return perché i ritorni sono maggiori anzi dovrebbe esserci più volatilità drag dovrebbe esserci più volatilità drag quindi qualcuno mi aiuta a capire come sono estratti i dati ok simuliamo una price series con lo stesso min ma con different standard deviation ok perché se ampliamo la gaussiana attorno a 8.52 c'è qualche mese che ritorna anche 30% qualcuno meno 5 se lo fai attorno allo 0 perdi è ovvio se lo fai attorno allo 0 perdi ma attorno a un valore atteso medio di 8.52 probabilmente il volatilità drag è minore del beh non lo so mi sembra mi sembra strana come analisi quindi vediamo che su questi dati su questo data set da analizzare bene immediatamente il final return aumenta ma non è garantito gli investimenti più volatili hanno ritorni maggiori sta usando questo argomento probabilmente quindi appare che i saver regolari possono questo non è argomento per dollar cost averaging abbiamo mostrato DCA riduce la volatilità riduce i ritorni però non vorrei questo utilizzato per dire si riduce la volatilità ma riduce la volatilità significa anche a sua volta non è che essendo più volati di questi hanno ritorno inferiore ok reputo poco interessante quest'ultimo argomento puoi continuare a leggere la combinazione di questi due articoli su questo qui che però non leggiamo adesso perché vado un po' o leggiamo velocissima velocissimamente quindi sui leverage etf abbiamo visto che va bene ma con un sacco di volatilità va male e l'articolo su dollar cost averaging in realtà gli investitori regolari possono beneficiare della volatilità quindi cosa succede se mischiamo leverage e dollar cost average leverage etf su un semplicemente tipo upro sono leverage on daily basis l'abbiamo già visti non abbiamo dati fino al 1800 bla 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 proviamo a simulare bla 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 simuliamo il prezzo di un 3x leverage etf fino al 1800 dai vabbè dai vabbè simulare un prezzo di un 3x supponiamo annual fee dell'1% è chiaro che il 3x leverage 3x più volatilità e quindi match higher return ok ok questo ce l'abbiamo e il dollar cost average come rientra? quindi l'orange dot indica che addirittura qui si può andare a leva 6 anyway what about the dca supponiamo di investire un dollar ogni mese into leverage etf that would adore quanto sarebbe il nostro prezzo dopo 200 anni plottiamo il log del final value in funzione del leverage e sembra che si assomigliano i grafici sembra che cambia sembra che si assomigliano i grafici quindi quindi un po' disappointing non aggiunge nulla ok conclusione dollar cost averaging non dà alcun vantaggio nell'everage investing cioè la domanda era posso andare in etf in leva mandarci dollar cost average o si riduca la volatilità che dà beneficio agli etf in leva a quanto pare no purtroppo non dà vantaggi va va ok ok interessante molto molto limitato come analisi a mio avviso quest'ultima bene spero che vi siano piaciuti questi articoli mi hanno interessato e colto come dire l'attenzione un annetto fa circa e volevo mostrarveli possono essere interessanti un altro punto di vista ma come farlo ad essere volate un po' difficile dai del 1800 ok ragazzi allora io devo scappare purtroppo ci vediamo stasera per il il triste resoconto del mese di ottobre in casa rip e bene direi che dalla cripta è tutto ci vediamo stasera e mi raccomando portate il whisky sai che il whisky non se ne beve grande Simone se porti qualche articolo mi leggo volentieri adesso buon Halloween vado a fare dolcetto scherzetto ci vediamo fra tre ore circa quattro ore circa ciao ragazzi buon pomeriggio grazie a tutti